il regalo di plora quando valentine adesso ho più tempo a casa, ho più tempo per la mia famiglia sto bene, sono più tranquilla andiamo a prendere Alex, adesso io godo con Alex specialmente abbiamo più tempo a fare i compiti ci sono i compiti? questa volta ci sono i compiti sei contenta che ti sta a mamma? oggi? quanto? tanto buona? buona è la tua preferita, vero? Alex mi ha preparato una cosa molto bella che mi hanno attaccato proprio lì sopra del mio letto loro mi aiutano, specialmente Catherine adesso mi sento bene, mi sento molto amata sia dalle mie famiglie, dai miei amici e dalle miei colleghe anche mia mamma, lo so che mia mamma lavora tutti i giorni però quando stavo male lei cerca il tempo di venire sai dove abita mia mamma, sta dall'altra parte questa malattia mi ha insegnato di distaccare un po' dalle troppie attività forse ho forzato oppure sono andata oltre la mia capacità per la mia mamma, sta dall'altra parte per la mia mamma, la mia mamma, la mia mamma, la mia mamma la mia mamma, la mia mamma, la mia mamma, la mia mamma